bella a tutti ragazzi ben ritornati sul mio canale per favore a quelli che si sono disiscritti si riscrivono che giuro che avrò tantissimi video comunque ragazzi siamo qui su Watch Dogs e siamo per fare andare a fare un bellissimo hacking come sapete Watch Dogs ormai super alto di moda perchè ormai è uscito Watch Dogs 2 che verrà rilasciato a gennaio io non potrò ma che culo ce l'abbiamo proprio qui tanto che fa un macello ah fuori lui perfetto proprio quando se ne stava andando perfetto sicuramente non voleva essere così non voleva essere hackerato così però non mi importa ok salviamo sopra e aspettiamo aspettiamo lo so che come hackerare camperane male però è l'unico modo raga è perchè ce ne sono di forti e di deboli ok 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 no non voglio proprio che ci veda ok 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 non gli dobbiamo passare neanche oh che culo che culo abbiamo qui una macchina possiamo fare così aspettarlo perfetto perfetto se lo vediamo passare se lo vediamo passare di qui però siamo fregati ok devo controllare un po' la zona quindi utilizziamo una telecamera ok sta venendo sta venendo vai qui perfetto vieni di qua non facciamo così dai 77% non ci deve trovare dov'è? oh mio dio ok 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 si è aperto il garage così di colpo eh però poteva andarci cavolo sarebbe stato troppo epico sa che siamo nella folla siamo sa che siamo qui con lui però non ci trova è dietro al panico ma spara no 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 non sa cosa fare non sa cosa fare e si vince attenzione si vince la prima partita con gusto si vince si vince si vince godo godo tantissimo va bene eh eh subito subito dobbiamo andare subito a fare un'altra hacking online perché se no lui potrebbe hackerarci intanto vediamo x totale x up totale ok eh quello lì punti che non vanno bene perché diciamo che è un cosa che non mi dà più punti però va bene va bene o forse ho raggiunto il limite di punti non lo so comunque ragazzi eh diciamo che sono abbastanza bravo nell'hackerare eh a watchdogs solamente solamente che quando faccio il finto camminatore quello ah penso no questo lagga questo lagga da schifo ah questo lagga ah quanto odio quelli che laggano eh mi sa raga che ci dobbiamo ritirare raga ci dobbiamo ritirare ah ok no no ha smesso di forse quando entri così eh mi sa che non ha una buona linea però va bene infatti ora si è buggato una macchina eh vediamo se fa qualcosa mi sembra uno che non fa niente beh questa credo che sarà una parte che lascerò tutta ragazzi abbiamo vinto gli ho sparato lui connessione col fixer nemico perduta però ci ha ricompensato quindi io direi buono solamente che non vorrei che entrasse nel mio mondo perché fa lagare un sacco quindi non vorrei mai andiamo da questo qui che è media la difficoltà vediamo 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 io no in campagna no io odio la campagna no no in watchdogs io ho sempre odiato la campagna voi direte perché odio la campagna perché il luogo dove ci sono sempre macchine ma mai cittadini quindi è impossibile carare bene se non camperi sotto gli alberi oppure ti metti dietro le macchine ok è pieno giorno che contentezza possiamo andare a grattare le patate perfetto e allora no qui non ci sono cittadini qui ci sono fa tutto potrei anche fargli male vediamo se si avvicina a noi no non si avvicina a noi diciamo che fa per i cavoli suoi quindi perfetto no per favore non camperane non voglio tagliare no non camper non camper è tutto schifo sono camper oh ho potuto hackerarlo per un momento dai fai vedere quel faccino se non mi fa vedere la faccia io non posso andare per un momento c'è passato davanti giusto? si ottimo osservazione oh mio dio ok ok l'abbiamo hackerato senza problemi attenzione voleva fare le sue belle cose ma quanto pare non le farà facciamogli capire che siamo qui dai dai vediamo se è bravo e come bravo detective dovrebbe non venire non spara la cavolo quindi no è bravo di si arriva di qua oddio no no ci voglio neanche pensare si è collegato con una telecamera si vede si vede una linea una linea si vede va non vede il bersaglio raga questa è una cosa molto brutta perché se non vedo il nome sono fregato intanto siamo al 32 34% dell'hacking per ora sono felice se raggiungiamo i 3 like prometto che oh c'è la linea da lui fino a una telecamera lì in fondo ok non padre oddio mio ora lo vedo ora lo vedo dai gli sto facendo di scherzo mamma mia pensavo che veniva di qui ok allora lui sta controllando tutta questa zona giusto quindi lui pensa che siamo all'interno di un garage oppure di mamma mia mamma mia mamma mia oddio si non ci ho visto non ci ho oh mio dio è tosta è tosta ok ok ho trovato forse qui è un buon punto per accareare meglio ok ok ha perso ha perso si suicida alla fine alla fine ma non è alla fine non è alla fine e si e si vince nella campagna non ci sono abitanti ma nella si voleva uccidere lo sapevo guardalo però non ho avuto il tempo per uccidersi perfetto ragazzi oh yeah abbiamo rischiato vai sbrigati però sbrigati sbrigati prima che entri guardate quanto sono bagati forse non li potete vedere voi vai in città tu sei in città tu sei in città ok in città metà campagna città metà campagna va bene basta che non sia in campagna no sta nel nascondiglio no pure nel nascondiglio raga poi si capisce pure nel nascondiglio che non ci può entrare dentro perché perché stai facendo un hacking e quando c'è un hacking non puoi entrare dentro qualcosa te lo dice ti sta noccherando fantastico no non è dentro la fazione madò madò non sono brava a guidare si vede no ma raga non dobbiamo fare neanche danni alla macchina che merda di canzone però va bene e no c'ha la polizia le calcagne che bello che bello ma lui penserà un cittadino e non è così pazzo spero che non mi sparino perché io c'ho una cosa fina un terrore ma fatti vedere si è buggato vabbè perfetto non è vero muovita ok muovita campioniamo un po' qua e ci sistemiamo come potete vedere lo spazio con la polizia gigante non me lo chiedete come mai ok lacking e inizio fa oddio è morto no no si spawna da un'altra parte e mi vede sono fregatissima no dovrebbe spawna tra qui quindi non dovrebbe avere problemi e quando si quando muore dovrebbe la polizia riconoscerla quindi mi possono segnalare pure la polizia tipo quel cosa quel triangolo col puntino esclamativo al centro mi può indicare che l'hanno visto quindi è un buon risultato per ora per ora per ora io non so cosa fare sa che è dentro all'hacking però mi sa che è dentro all'hacking controllo il primo posto che controllerà sicuramente è questo quindi è buono che non attiriamo l'attenzione dei cittadini perché se insultiamo una tizia la polizia ci viene contro perfetto allora vediamo un po' vediamo un po' mizzica quattordicesimo minuto raga vabbè 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 speriamo di farcela in tempo perché se va al quindicesimo minuto dovrò accorciare il video dai forza mi sa che l'accorcerò vabbè ragazzi io sto per il video e ci vediamo alla fine e ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto ho vinto contro questo qui che è un monstro ci vediamo al prossimo video e bella ragazzi tanto che prendiamo il treno ciao